C'è una città che si trova in Corea del Sud, a circa 50 chilometri da Seoul, che si chiama Songdo. Songdo è una vera città del futuro. Tutti i servizi per i suoi cittadini sono stati disegnati a partire dai dati che si raccolgono all'interno di questa che è una vera e propria smart city e quindi c'è molto verde urbano, circolano pochissime auto, ha una rete incredibile di piste ciclabili e tutta la città è ovviamente a bassissimo impatto sul clima. A Songdo c'è un quartiere residenziale che è fatto di palazzi completamente smart, che producono energia verde, che riciclano le acque piovane e ovviamente sono dotati di un sacco di dispositivi intelligenti che negli appartamenti regolano l'illuminazione, il clima e prevengono tutti gli sprechi energetici. Vivere in questo quartiere è gratis, cioè mi spiego meglio. Il quartiere è stato realizzato grazie a un progetto immobiliare privato a cui ha collaborato l'amministrazione pubblica locale e poi gli appartamenti che sono stati realizzati sono stati offerti gratuitamente per due anni alle persone a patto che chi si trasferiva lì accettasse una condizione, cioè che tutti i dati che questa casa smart raccoglie sulla vita dei suoi abitanti saranno poi usati per fare delle analisi, elaborare dei modelli per migliorare questo progetto. Non stiamo parlando di una sorveglianza videocostante, insomma non è uno scenario da grande fratello, però si tratta comunque di cedere una buona parte della propria privacy quotidiana in cambio della possibilità di vivere in queste case da sogno, in questo quartiere perfetto di questa città ideale. Viola, se ti offrissero uno di questi appartamenti tu accetteresti? Oddio Chiara, non lo so, non sarei così entusiasta di vivere in una casa monitorata H24 o almeno nel caso dovrei capire bene chi sta raccogliendo i dati, cioè se l'università, se l'azienda privata, per quali scopi lo sta facendo, insomma potrei dirti che da buona europea che tiene alla propria privacy avrei diversi dubbi da sciogliere prima di accettare e tu? Io forse sarei curiosa di abitare in una casa ultra tecnologica, magari anche di prendere parte a un esperimento scientifico, soprattutto mi interesserebbe se servisse a capire come migliorare il nostro impatto sul clima. Certo, a guardarlo dall'Italia un progetto così sembra davvero uscito da un racconto di fantascienza, non sembra tanto possibile che in tempi brevi nel nostro paese ci possa venire fatta una proposta simile. Di Smart Cities ormai si parla da tantissimo tempo, per anni abbiamo discusso di temi come sensori, open data, città sostenibili, trasporto pubblico automatizzato e magari anche a guida autonoma, di raccolta dei rifiuti smart, connessioni wifi aperte in tutta la città, illuminazioni intelligenti, insomma di cambiamenti che poi in effetti non sembrano essersi verificati. La ricerca che guarda sempre più lontano dalla nostra quotidianità e immagina soluzioni e risposte che si proiettano di molti anni avanti nel tempo si è occupata a lungo di questi temi e se ne occupa ancora, ma nelle nostre città non molto sembra essere cambiato. Non so se voi che ci ascoltate vi siete mai chiesti a che punto siano le Smart Cities o meglio se queste Smart Cities siano ancora una promessa certa per il nostro futuro o se la prospettiva di vivere in una città intelligente si sia molto ridimensionata. Bit by Bit, un podcast prodotto dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR. La ricerca informatica raccontata attraverso i progetti e gli studi che si svolgono ogni giorno all'interno del più grande ente di ricerca italiano. Perché anche in una rivoluzione che ci sembra così rapida e travolgente come quella dell'informatica, la ricerca segue il suo ritmo passo dopo passo, giorno dopo giorno, portata avanti da migliaia di scienziati sommando le piccole e grandi scoperte di ognuno di loro. Bit by Bit. Come avrete capito in questa puntata parleremo di Smart Cities e lo faremo da due punti di vista diversi perché abbiamo intervistato due ricercatori dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR che si trovano a lavorare su una sponda e sull'altra dell'Oceano Atlantico. Il primo è Raffaele Bruno che è primo ricercatore dell'unità Ubiquitous Internet e si trova a Pisa. Mi occupo principalmente di reti 5G, di tecnologie per l'Internet delle cose e di come queste tecnologie possono essere utilizzate per rendere più smarte le nostre città. Tra le varie città Raffaele ha lavorato anche con Firenze. Il progetto europeo Replicate infatti vedeva il capoluogo toscano al centro di uno studio dedicato allo sviluppo di città intelligenti. Tra gli obiettivi di Replicate c'erano l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile e l'innovazione tecnologica. Oggi Firenze è il comune più digitale d'Italia secondo la classifica ICT Rank, seguita al secondo posto da Milano. Eppure Firenze non sembra assomigliare troppo alla città di Songdo che abbiamo descritto nella nostra storia iniziale. La città di Firenze nell'ultimo dicennio è investito moltissimo sul promuovere la mobilità elettrica, la mobilità sostenibile. Quando il progetto Replicate è iniziato nel 2016 era già allora la città italiana che aveva l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici più grande d'Italia. Il progetto Replicate doveva proprio aiutare la città a migliorare la sua infrastruttura di ricarica e a ulteriormente favorire la diffusione dei veicoli elettrici in città. Per esempio la città di Firenze aveva deciso di aumentare il numero di licenze di taxi nella città però chiedendo che tutti i nuovi taxi fossero elettrici. Il nostro gruppo di ricerca aveva tra i suoi compiti all'interno del progetto proprio quello di cercare di studiare come queste evoluzioni nella mobilità elettrica in città potevano impattare l'utilizzo della infrastruttura di ricarica che la città possedeva. A quel tempo scoprimo che le colonie di ricarica venivano utilizzate in maniera non efficiente. Da un lato perché la tecnologia allora adottata era a bassa capacità quindi le ricariche erano piuttosto lunghe ma al tempo stesso anche perché i cittadini avevano la tendenza a rimanere parcheggiati alle colonie di ricarica anche dopo aver completato il loro processo di ricarica. Quindi il comune si interrogava su quale potevano essere le strategie più efficaci per migliorare l'efficienza nell'utilizzo della sua infrastruttura ed in effetti dal nostro studio risultò che l'effetto migliore sarebbe stato quello di introdurre dei limiti sul tempo di sosta dei veicoli alle colonie di ricarica. Al tempo stesso il comune decise comunque di acquisire delle colonie di ricarica ad elevata capacità anche se un numero limitato e di riservare l'utilizzo di quelle colonie soltanto per i taxi elettrici. Quindi questi esempi essenzialmente dimostrano come adottando delle politiche smart sia possibile ottenere grossi miglioramenti nei servizi forniti anche riducendo l'entità degli investimenti necessari per realizzare le nuove infrastrutture. Come ci ha spiegato Raffaele quindi il tema non è soltanto raccogliere i dati per fare una smart city ma è anche soprattutto capire cosa farci con questi dati come integrare i risultati della loro analisi nelle decisioni che riguardano la città e come poi attuare i cambiamenti. Più o meno tutte le amministrazioni locali sono ormai consapevoli della necessità di rendere più smart le nostre città per avere un impatto minore sul clima e migliorare la vita dei cittadini. Però poi di fatto sono in pochissimi a farlo ancora. Sicuramente c'è un elemento economico da considerare ma non è soltanto questo. Abbiamo chiesto a Raffaele perché secondo lui in Italia questo tipo di soluzioni è ancora in una fase così embrionale. Se guardiamo il problema da un punto di vista tecnologico possiamo dire che la disponibilità di tecnologie per realizzare le nostre città smart non sia il problema principale. In effetti uno degli elementi più importanti è quello di avere a disposizione delle reti di sensori che possono essere operative in campo per periodi molto lunghi, dell'ordine degli anni, senza che sia necessario sostituire le batterie con cui la maggior parte di questi sensori funziona. E se noi pensiamo a tutti i dispositivi che abbiamo vediamo che questo problema tecnologico è in via di soluzione. In effetti già oggi abbiamo tantissime città pilota che hanno implementato dei servizi nella logica smart cities. Pensiamo per esempio alle infrastrutture di videosorveglianza, ai sistemi di monitoraggio del traffico, di occupazione dei parcheggi oppure sistemi in cui si ha il monitoraggio dei cassonetti della spazzatura del loro utilizzo. Inoltre alcune città hanno già messo a disposizione dei portali in cui i dati relativi all'utilizzo dei loro servizi sono resi pubblici e disponibili ai cittadini o a chi voglia realizzare delle applicazioni smart per la città. Già ai tempi del progetto Replicate l'obiettivo era proprio capire se una soluzione che poteva avere un effetto benefico su una città poteva essere replicata e utilizzata così com'era o con piccole modifiche in contesti diversi, in città più piccole o in città con vocazioni differenti. Per poter fare questa analisi, certamente uno degli elementi fondamentali e cruciali è la disponibilità non soltanto dei dati ma anche la disponibilità di modelli che ci permettono di capire a fondo quelle che sono il funzionamento dei singoli servizi e soprattutto di come questi servizi interagiscono fra di loro e si influenzano. Quindi in realtà questi modelli delle singole infrastrutture, dei singoli servizi non devono rimanere scollegati fra di loro ma devono essere messi in rete fra di loro a formare quello che è una sorta di controparte digitale dell'intera città, quello che oggi comunemente viene chiamato come il gemello digitale della città. Poi è chiaro che oltre a questo si aggiungono altre problematiche relative agli investimenti per modernizzare l'infrastruttura delle nostre città o anche problemi legati alla disponibilità di competenza all'interno delle municipalità per poter poi non soltanto gestire ma anche immaginare. Insomma è un processo lungo, probabilmente più lungo di quanto avessimo previsto. Ecco, se siamo partiti dall'esempio della città di Songdo in Corea è perché forse rappresenta al meglio l'idea di Smart Cities che negli anni passati c'era stata raccontata dagli esperti e dai media. Ma abbiamo capito anche a questo punto che la realtà è infinitamente più complessa. Un aspetto da tenere in considerazione quando si parla di città europee in generale e italiane in particolare è che l'innovazione si va a inserire in un contesto urbanistico millenario che presenta molte difficoltà. Il centro storico di una città di origine medievale è praticamente impossibile da cambiare e non è semplice far evolvere edifici antichi per contenere gli sprechi energetici. In effetti la città di Firenze è un esempio di come le Smart Cities vengono realizzate nella maggior parte delle città europee perché in realtà è complesso stravolgere il tessuto urbano. Un esempio diciamo di questo molto particolare è quello della città dell'Aquila che dopo il sisma del 2009 ha vissuto una profonda trasformazione a seguito della ricostruzione e questa ricostruzione ha permesso di realizzare delle nuove infrastrutture che favoriscono l'innovazione digitale della città ad esempio attraverso la fornitura di fibre ottiche che pervadono l'intera città. Raffaele Bruno ci ha raccontato gli ostacoli e gli imprevisti su questa lunga strada che ci porterà si spera un giorno ad avere delle città più intelligenti e ci ha spiegato chiaramente che quello che ci manca non è la tecnologia però in realtà c'è un'innovazione tecnologica su cui i ricercatori stanno ancora lavorando e che porterà davvero dei cambiamenti in questo campo. Un altro aspetto che sicuramente sarà molto importante per la città del futuro sarà l'utilizzo delle tecnologie 6G che sono agli albori nel loro sviluppo in questa fase. Infatti le tecnologie 6G ad esempio permetteranno di realizzare degli ambienti altamente immersivi in cui dispositivi tattili e sistemi olografici si andranno ad aggiungere ed affiancare alle tradizionali segnali audio e video. Un altro aspetto importante delle reti 6G è quello di integrare funzionalità di monitoraggio di sensing all'interno della rete stessa. Questo per esempio per abilitare dei servizi basati su una localizzazione molto precisa o per permettere di essenzialmente identificare quelle che sono le attività che vengono svolte dall'individuo. Infine non ci dobbiamo dimenticare che la rete 6G è una rete che si pone come obiettivo quello di fornire delle garanzie sulle prestazioni della comunicazione, ad esempio latenze molto ridotte, garantite. Questo sarà molto importante in tantissimi scenari complessi come per esempio reti di droni per applicazioni della logistica o anche veicoli autonomi che dovranno collaborare fra di loro per rendere più sicuro il traffico all'interno delle nostre città. Vi ricordate il progetto del quartiere coreano di Songdo che vi abbiamo raccontato all'inizio della puntata? Ecco, a quello studio lavora anche Paolo Santi che è un dirigente di ricerca dell'Istituto di Informatica e Telematica e collabora con il Sensable City Lab al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Lo abbiamo chiamato per farci raccontare meglio di cosa si sta occupando su questo progetto. In questo momento il quartiere è già stato costruito, le persone ci vivono, sono state fatte delle interviste e cominciano ad arrivare i primi dati. Noi come gruppo di ricerca siamo impegnati in due cose. La prima, che è stata molto gradita dagli abitanti del quartiere, è fare un'attività di design, di innovazione, design thinking, dove gli abitanti sono stati direttamente coinvolti. L'idea è quella di presentarli alcuni dataset che possono usare per realizzare un'applicazione innovativa in un certo settore e devono formulare idee cercando di capire quali dati sono necessari per poter realizzare la loro app innovativa. E questo permette alle persone di capire che certi dati possono essere assolutamente necessari per fare un'attività che magari sia utile per loro. La cosa interessante è che sono venute fuori alcune idee che non ci aspettavamo, noi diciamo abituati alle nostre idee, alle nostre prospettive, per esempio usare i dati per cercare di capire come si possono prevenire i suicidi che evidentemente devono essere un aspetto molto rilevante nella società coreana. La seconda attività che ancora non abbiamo cominciato a fare, perché ancora non abbiamo avuto accesso ai dati, però man mano che saranno generati sempre più dati, abbiamo anche l'incarico di dover analizzare questi dati e cercare di capire come le persone usano questo quartiere intelligente. Quindi, in Corea l'esperimento di una città smart sembra funzionare. Poi non c'è solo Songdo, ma nell'elenco delle smart city, anche se a diversi stadi di evoluzione, possiamo citare anche Singapore, Amsterdam, Stoccolma, Londra, solo per fare qualche esempio. Però non sempre questo tipo di cambiamenti è accolto con grande entusiasmo dagli abitanti e questo accade più specialmente in Occidente, perché da noi se manca un vero coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di cambiamento del territorio, è difficile che dei progetti anche famosi e molto ben finanziati riescano a vedere la luce. Un esempio è quello che è successo con il Quayside Project, che è stato lanciato a Toronto da Google. La storia in breve è questa. A Toronto c'era un quartiere in disuso da riprogettare, sul fronte del Lago Ontario, in una vecchia zona industriale. L'amministrazione della città aveva deciso di accettare un enorme investimento tecnologico da parte di Sidewalks Lab, società di Google, che avrebbe installato sensori e raccolto molti dati sulla vita degli abitanti. Questo ha scatenato un'enorme resistenza da parte dei cittadini, che non l'hanno accettata perché l'investimento è stato visto come una speculazione immobiliare non necessaria, ma soprattutto per questioni legate alla privacy, alla raccolta dei dati, al livello di sorveglianza percepito dalle persone. Così, nonostante si parlasse da anni del progetto e si fossero fatti già diversi studi, era diventato praticamente impossibile andare avanti perché le persone manifestavano continuamente e il movimento di opinione intorno a questo cantiere lo ha portato al fallimento. Questo fiasco ha fatto riflettere sia le grosse aziende che le amministrazioni delle città sul fatto che non è impossibile imporre soluzioni, anche tecnologiche, magari anche migliorative, solo che si deve usare un approccio diverso, coinvolgere i cittadini e dare qualcosa in cambio. Certamente c'è una differenza di sensibilità sui temi legati all'utilizzo dei dati e alla privacy, per esempio fra le società occidentali e quelle orientali, dove c'è nelle società orientali una monorsensibilità al tema della privacy o, per meglio dire, si accettano più facilmente alcuni compromessi se si vede il vantaggio, come per esempio è successo durante la pandemia dove, come sappiamo, in alcuni paesi come il Giappone e la Corea ci sono state delle app di tracciamento molto più invasive di quelle che sono, per esempio, state realizzate in Italia che hanno però permesso di contenere i contagi in maniera molto più efficace. Ma il coinvolgimento dei cittadini per guadagnarsi la loro approvazione non è l'unico ostacolo. C'è anche la difficoltà a reperire i dati, o meglio, a poterli utilizzare per scopi di ricerca. Sappiamo infatti che l'Europa, con la legge sul GDPR, ha introdotto una serie di limitazioni importanti in questo senso. Abbiamo chiesto a Paolo come l'entrata in vigore del GDPR ha modificato il rapporto tra ricerca e dati. Il GDPR, da un punto di vista di innovazione e di ricerca, può effettivamente essere molto limitante, perché rende ancora più difficile poter ottenere i dati dalle aziende. Cioè, da un lato vengono sempre prodotti sempre più dati, perché la digitalizzazione si diffonde sempre di più, però c'è anche un altro fenomeno, che quando uno arriva a cercare di pubblicare il proprio lavoro, le riviste chiedono anche che almeno parte dei dati siano resi pubblici per poter replicare lo studio. E questo chiaramente diventa una sfida quasi impossibile da risolvere con il GDPR, che mette un carico amministrativo notevole sulle aziende, per cui per loro gestire dati è un costo, ma porta anche a un notevole rischio. E quindi chiaramente hanno meno incentivi e meno volontà di poter condividere dati ai fini di ricerca con enti di ricerca come noi. Da un certo punto di vista, in questo senso, il Covid è stato un piccolo vantaggio, strettamente da questo punto di vista ci tengo a dire, perché nel caso dell'emergenza Covid tante aziende hanno rilasciato dataset anche molto dettagliati sulla mobilità per poter prevenire appunto la diffusione della pandemia. Quindi è stata fatta un'eccezione a tutte queste regole per scopi di ricerca che attualmente è sempre disponibile, insomma, poter accedere a questo tipo di dati. Questa è stata un'eccezione che ci ha permesso, in un certo senso, di aggirare il problema del GDPR. Eppure con questi dati si possono capire molte cose utili. Grazie alle ricerche di Paolo, per esempio, possiamo capire com'è cambiata la nostra società dopo la pandemia e riprogettare servizi come trasporti pubblici per venire incontro alle nuove esigenze dei cittadini, che non sono più le stesse di qualche anno fa. La pandemia ha cambiato per molti di noi lo stile di vita, ad esempio con lo smart working. Abbiamo chiesto a Paolo se i fatti che succedono nel mondo e che toccano in qualche modo le nostre vite possono cambiare anche l'approccio della società alle smart cities. La pandemia è stata indubbiamente un grosso shock del sistema, che poi è stato seguito a ruota da un altro shock, che è la guerra in Ucraina, che è ancora devastante. Diciamo, ancora un nuovo equilibrio probabilmente non si è ancora raggiunto, cominciamo un po' ad avere una certa stabilizzazione. Per esempio, un effetto che c'è stato qua negli Stati Uniti, questo legato più al discorso della pandemia, è che le persone dicono di aver capito meglio il valore del tempo, speso per la vita privata o per la vita familiare o in generale fuori dal contesto lavorativo. Questa tendenza la vediamo da dati, per esempio abbiamo una collaborazione con un'azienda che gestisce grandi edifici che contengono uffici e dove c'è una guardia all'ingresso che controlla chi entra. Quindi abbiamo dati sulla presenza in questi edifici e a tutt'oggi la presenza è sempre intorno al 50% dei livelli prepandemici. In particolare, per esempio, si è visto che c'è una forte tendenza a fare una settimana corta, se non cortissima, dove gran parte della gente non va al lavoro il venerdì e spesso anche il giovedì. Quindi questo ha portato chiaramente una grossa modifica delle abitudini e per esempio sta un po' cambiando il classico paradigma che vedeva la mobilità divisa in mobilità durante giorni feriali e mobilità durante il fine settimana. Questo significa che il classico modo di gestire il servizio pubblico, che finora è visto come avere in un certo senso due categorie, una per i giorni feriali e una per i giorni festivi, dovrebbe magari essere aggiornato per tenere conto del fatto che i giorni feriali adesso sono un po' diversi e magari il giovedì e il venerdì c'è necessità di meno servizio perché gran parte delle persone lavorano da casa. Questo è un esempio di una tendenza verso un nuovo equilibrio che si è raggiunto dopo la pandemia. In generale un altro grosso cambiamento che è in atto è la maggior consapevolezza dei rischi ambientali che comincia veramente a arrivare sempre di più alle persone e per esempio anche paesi come la Cina ultimamente stanno investendo tantissimo nell'elettrico e sono diventati dei leader mondiali in questo settore. Arrivati quasi alla fine di questa puntata abbiamo capito una cosa, che non è semplice fare una smart city, che le nostre città sono dei sistemi complessi e che se vogliamo davvero renderle più smart dobbiamo prima di tutto affrontarla questa complessità, comprenderla e utilizzare i dati a disposizione per interpretarla e per risolverla. Uno degli strumenti di cui si parla molto e che rappresenta una frontiera in questo tipo di ricerche è il cosiddetto digital twin, il gemello digitale. Il digital twin è una replica virtuale del mondo fisico che fornisce una fotografia fedele in tempo reale. Questo gemello digitale ci consente anche di prevedere come quel pezzetto di mondo che stiamo studiando, per esempio il quartiere di una città, reagirà a dei cambiamenti che andremo ad inserire in ottica smart. I ricercatori come Raffaele Bruno e Paolo Santi vedono in questo spazio virtuale una possibilità davvero interessante per studiare e sviluppare le nostre città del futuro. Il gemello digitale è certamente un argomento di ricerca fondamentale per le smart cities. Al tempo stesso non è un argomento di ricerca completamente nuovo perché nel settore industriale il gemello digitale è stato sviluppato da diversi anni. Certamente quello che è innovativo è che nel contesto cittadino diventa molto importante integrare nel modello digitale, come si diceva prima, il cittadino stesso e il modo con cui il cittadino interagisce con la città. Per fare un esempio vi sono degli studi che prevedono che avendo veicoli solo autonomi il numero di chilometri che questi veicoli percorreranno nella nostra città potrebbe essere addirittura superiore rispetto a quello che attualmente i veicoli tradizionali compiono e questo perché i veicoli si sposteranno alla città per andare dove c'è una richiesta di mobilità. In un altro progetto europeo noi abbiamo sviluppato dei modelli simulativi per dei sistemi di car sharing in cui si andava a considerare come il sistema di car sharing interagiva con gli altri mezzi di trasporto della città e con il cittadino stesso perché uno dei rischi che veniva appaventato nel progetto è che fosse possibile che i cittadini decidessero di abbandonare l'autobus per invece spostarsi sulla mobilità condivisa e sul car sharing e quindi in realtà l'introduzione di questo che a prima vista poteva sembrare essere un sistema più sostenibile avrebbe avuto un impatto negativo sulla città perché avrebbe ridotto l'utilizzo del trasporto pubblico. Il CNR ha realizzato un laboratorio virtuale per lo studio dell'urban intelligence cioè proprio del gemello digitale che mette insieme ricercatori di diverse discipline proprio perché è un problema altamente multidisciplinare che ha bisogno non soltanto degli esperti di dominio ma anche di ICT che modellano come i vari sistemi interagiscono tra di loro. Effettivamente può sembrare che la parola smart city ormai sia inflazionata perché se ne parla da più di dieci anni e sembra di non vedere i risultati ma in realtà non è così insomma queste tecnologie si stanno diffondendo sempre di più e per esempio il concetto di digital twin può essere visto come un'evoluzione più implementativa della smart city cioè di cercare di effettivamente trarre dei risultati. Quindi il digital twin ci permetteranno di fare appunto dei modelli che siano sempre più accurati e vicini alla realtà per quanto possibile che potranno essere usati per esempio per capire meglio qual è il futuro delle città quando ci saranno ulteriori innovazioni come per esempio l'auto a guida autonoma oppure le comunità energetiche nei quartieri per bilanciare produzione e consumo di elettricità e chissà quali altri cambiamenti. Se abbiamo modelli saremo pronti ad affrontare i cambiamenti basandoci sempre più sui dati e quindi cercando di avere dei modelli il più fedele possibile chiaramente nei limiti di quanto è possibile fare. Bit by Bit è un podcast dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa scritto da Viola Bacchini e Chiara Spinelli supporto alla registrazione di Andrea De Vita montaggio di Viola Bacchini prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Grazie a tutti